Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale C'è una talpa in Asset Holding, la società diffida i consiglieri Santorelli e Del Vecchio a rivelare il nome Loro replicano, la vicenda è assurda mentre il sindaco obbliga i dirigenti al silenzio Azimut Benetti, delusione dei sindacati e dei lavoratori per l'incontro col sindaco ai vertici dell'azienda Nessuna risposta definitiva Con 80 musicisti, 24 concerti e 3 palcoscenici torna Fanno Jazz by the Sea dal 22 al 31 luglio Massimiliano Menegatti è il nuovo direttore sportivo dell'Alma Juventus Fanno Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, i consiglieri comunali Del Vecchio e Santorelli sono stati diffidati Dall'Asset Holding dopo un'interrogazione che avevano presentato in consiglio comunale Sulla fusione dell'azienda pubblica con l'Asset S.P.A. Questa vicenda è stata definita assurda sia dai due consiglieri che da alcuni loro colleghi Sentite E messa a repentaglio la democrazia è un atto lesivo del ruolo dell'opposizione Questo è un commento dei consiglieri Alberto Santorelli di Progetto Fanno e Davide Del Vecchio dell'Udc Che sono stati diffidati dal consiglio di amministrazione dell'Asset Holding per un'interrogazione urgente Che avevano presentato il 13 aprile scorso intitolata Quale fusione fra le due Asset In sostanza i consiglieri affermavano che la società stava lavorando con l'advisor Per far ribadire l'impostazione della fusione proponendo l'incorporazione della spa nella holding Lunedì poi Santorelli del Vecchio hanno ricevuto la comunicazione da uno studio legale Con la quale vengono intimati a rendere noti entro cinque giorni i nomi delle persone Che sono state fonte delle informazioni riservate e ricevute Oppure di attribuirsi la paternità delle elezioni prive di alcuna base di conoscenza Questo è un attentato alla democrazia È una cosa assurda, mai vista Noi abbiamo chiesto l'intervento del prefetto per questa questione Abbiamo sinceramente avuto anche molti riscontri positivi da tanti nostri colleghi consiglieri Ci auguriamo che il sindaco e il presidente del consiglio Prendano atto di questa grave situazione che si è venuta a creare E adottino tutti gli strumenti necessari perché si torni alla legalità Alla trasparenza perché lo voglio citare È stato il punto per cui abbiamo fatto l'interrogazione La trasparenza E quindi si torna alla serenità all'interno del consiglio comunale Perché questa è una cosa assurda Se questo non sarà noi siamo anche disponibili ad incatenarci davanti al comune Perché si stanno veramente usurpando Mettendo sopra tutte le libertà fondamentali Che sono garantite dalla Costituzione Ma anche dall'essere eletti all'interno del consiglio comunale Che cosa chiedete e che cosa vi aspettate adesso dal sindaco di Fanno? Innanzitutto che governi la città Quello che oggi ci pone davanti al dibattito È un cortocircuito istituzionale Provocato dal non decidere E dal non governare la situazione da parte del sindaco Deve essere fatta la fusione per i cittadini Per migliorare i servizi cittadini Per abbassare le tariffe ed i costi a carico della collettività e dei cittadini E non per difendere lo status di qualche dirigente o di qualche funzionario Quella è la missione che deve avere chi deve fare la fusione E noi vogliamo garantire questo Per questo siamo stati diffidati Questo è inaccettabile Il sindaco prenda di mano la situazione Prenda tutti i provvedimenti necessari Perché altrimenti darà dimostrazione che in questa città Non è possibile né fare politica Né candidarsi a fare i consiglieri comunali E che vige un regime di lassismo Che è la cosa peggiore in assoluto Che mai era accaduta nella città di Fanno Il consigliere di Forza Italia Stefano Mirisola Definisce la diffida una vergognosa censura Al lavoro dei consiglieri comunali Che sono chiamati a rappresentare la città Mirisola propone di stilare Un documento sottoscritto da tutti i consiglieri Con cui chiederà il sindaco di riprendere il CDA di Aset Mandatario della missiva E sollevarlo dall'incarico Per Andrea Montalbini Segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale L'episodio mina le regole base Di democrazia e trasparenza E questo per Montalbini Mostra solo che Seri non comanda più Visto che le decisioni nella città della fortuna Detto le prendono Cerescioli Matteo Ricci Renato Claudio Minardi Ed ora pure l'Aset E una tirata d'orecchia all'Aset Holding Arriva dal sindaco di Fano Massimo Seri Che obbliga i dirigenti A silenzio stampa Ma anche alla revoca della diffida Il tema della fusione di Aset È un tema delicato E non mi sorprende che ci sia un dibattito acceso Però bisogna porre dei paletti E porre dei confini Anche nei comportamenti Quindi ho iscritto Al consiglio di amministrazione Di Aset Holding Poiché sono di nomina sindacale Quindi di nomina politica Gli ho invitati A non più intervenire pubblicamente Perché poi diventa un dibattito politico Poiché loro rappresentano Un ruolo tecnico E tale deve rimanere Ho anche chiesto Di revocare la diffida Che è stata inviata Perché è un'iniziativa Che si presta strumentalizzazione politica E rischia di andare al di là Del vero ruolo E di non mettere anche in buona luce Il lavoro che è stato fatto fino ad oggi Quindi su questo sono stato chiaro Nella lettera che ho inviato E mi aspetto altrettanti comportamenti chiari Poi detto questo Avanti con la fusione Nel pomeriggio ho avuto anche un incontro Con i sindaci soci Perché io il percorso Lo voglio condividere anche con loro Oltre con le forze politiche Con i gruppi consigliari Del consiglio comunale Perché una scelta come questa Va condivisa Quindi anche su questo Saranno risposte immediate Per questione di giorni Perché è una posta questione fine E quando è il momento di decidere Di dire basta È il momento di farlo E questo è il momento Quindi le posizioni saranno chiarissime E ognuno poi si assume Le proprie responsabilità Nei propri ruoli che rappresenta E adesso andiamo avanti Con una notizia di cronaca Perché le fiamme gialle di Urbino Hanno denunciato per peculato E appropriazione indebita di denaro Un uomo che ha prelevato Oltre 35 mila euro Dal conto corrente Dell'anziana madre Senza giustificati motivi E senza versare le rette mensili Alla residenza per anziani Dove era alloggiata L'uomo era l'amministratore Di sostegno della donna Era stato incaricato dal giudice Tutelare di accudire la madre Affetta da una grave patologia neurologica Le indagini della guardia di finanza Si sono concluse con la denuncia La revoca dell'incarico di amministrazione E il sequestro preventivo Di un immobile finalizzato Alla confisca per equivalente E hanno sfilato per le vie Del centro storico di Fano I sindacati di categoria Insieme a lavoratori Dell'Azimut Benetti In attesa di incontrare Il sindaco e i vertici Dell'azienda Ma allora vediamo che cosa È successo Nel prossimo servizio Che ha realizzato Lino Balestra Un'altra giornata di sciopero Ed un altro corteo Per i lavoratori Dell'Azimut Benetti Questa volta però Nel cuore della città Ed in un giorno Di grande afflusso di gente Per via del mercato cittadino Oggi era il giorno Dell'incontro Con il sindaco Massimo Seri Che da subito Si è messo a disposizione Dei lavoratori Per capire I margini Di trattativa Con la proprietà Per non far Volatilizzare Anche quest'altro pezzetto Di cantieristica navale Della città A discapito Non solo Delle maestranze dirette Ma anche dell'indotto Che ne usufruisce Appuntamento quindi Alle dieci e mezza Di questa mattina Sotto la porta Augustea Muniti di bandieroni Megafoni E striscioni Per poi dirigersi In corteo Fino alla residenza cittadina E poi alle dodici Incontro Con il primo cittadino E cosa vi aspettate Da questo incontro? Ci aspettiamo Delle risposte certe Positive Rassicurative Per tutti noi Perché non ci possiamo Aspettare che Un'azienda importante Leader nel mondo Come la Benetti Ci tratti in questo modo Quindi Sicuramente Risposte positive Ecco Siete da tanti Da tanti giorni Sulla strada Manifestare quello Che volete ottenere Siete fermi e decisi Ormai è dal 23 di luglio Dopo lo sciopero Di otto ore Che ogni Il 23 di giugno Che facciamo lo sciopero Di otti ore E in oltranza Un'ora al giorno Fino oggi Ecco Fra poco Siete dal sindaco Cosa gli chiederete Nello specifico? Che la Benetti Deve rimanere a Fano Leader mondiale Deve rimanere Assolutamente Noi non molliamo Non ci arrendiamo Per nessun motivo Da quanti anni Siete nel settore? Io ho 27 anni Però c'è gente Da 40 E da tra oggi Ce ne sono tre persone Che fanno 30 anni Lì dentro E non vogliamo Che per colpa Dell'avassamento Di cotti Ci rimetta noi Un'ultima battuta Come state vivendo Queste giornate Questo momento Della vostra vita? È un momento difficilissimo Perché l'azienda Fino ad aprile Andava alla grande Tutto un tratto È scoppiata questa bomba Ci ritroviamo Praticamente Quasi in mezzo A una strada Senza che l'azienda Ci abbia ancora detto Veramente Che cosa succederà A settembre Siamo qui Per avere risposte Dal sindaco Dalle autorità Che aiuto Potrete averlo? Ringraziamo il sindaco Perché ci ha reso Subito disponibile Per questo incontro Speriamo che ci aiuti A chiarire un attimino Questa situazione Soprattutto stimoli L'azienda A dare una risposta positiva Sindaco Allora quest'oggi Ci sono stati I lavoratori Dell'Azimut Venetti Grande preoccupazione Grande apprezzione Ma anche grande decisione Nei loro occhi Nei loro parole Sì Non a caso Io ho costituito Questo tavolo istituzionale Con il rappresentante La proprietà E le rappresentanze sindacali Per metterli tutti Attorno Allo stesso tavolo E affrontare insieme La problematica Ci siamo lasciati Facendo una sintesi Della risultanza Dell'incontro Che le posizioni Sono rimaste Distinte Ma l'invito Che io ho fatto Alla proprietà In questi giorni Di incontri interni Di valutare Tutte quelle ipotesi Che possono mantenere Un'attività All'interno Degli attuali stabilimenti Trasferendo anche Alcune attività Che Benetti Dà A terzi Quindi potrebbero essere Fatti realizzati Internamente E mantenere le maestranze Prendendo una boccata D'ossigeno E guardando anche A quelle che sono Le prospettive Del mercato Si può ipotizzare A fronte di alcune aziende Che vanno via O che sono Scomparse dal panorama Fanese Attraverso alcune Incentivazioni L'amministrazione Può mettere in campo Insomma Del suo In questo caso Per far arrivare qui Con agevolazioni fiscali Con sgravi Insomma Con tutti gli strumenti Che avete a disposizione Delle aziende Nuove In pianta a Fano Si questa è una cosa Intelligente Sulla quale abbiamo Già ragionato E noi Tutti coloro Che vogliono fare Investimenti E vogliono vivere La nostra città Avranno tutte le porte Non dico aperte Spalancate Cercando anche Di andare incontro A quelle che sono Le difficoltà Che si possono incontrare Quotidianamente La provincia di Pesaro Urbino Che è l'ente gestore Della riserva naturale Statale Gola del Furlo Ha sbloccato 204 mila euro Dell'avanzo di bilancio Destinati proprio All'area protetta Per finanziare Cinque progetti Che serviranno A tutelare Gli elementi naturalistici A migliorare La sinteristica E i percorsi Ma anche Ad abbattere Alcune barriere Architettoniche Rendendo il patrimonio Più fruibile A cittadini Turisti E scolaresche Fra le iniziative Rientrano La creazione Di un parcheggio E di un'area Recreativa Un restyling Del museo Del territorio Verranno migliorate Inoltre la segnaletica I sentieri esistenti E verranno installati Degli impianti Di videosorveglianza Sarà la cantante Noa Ad aprire Quest'anno La 24esima edizione Del Fano Jazz by the Sea L'evento Torna il 22 luglio Con 10 giorni di festival E 80 musicisti Il jazz fu creato Dagli africani Deportati negli Stati Uniti E schiavizzati Che cantavano Per alleggerire il lavoro Il jazz è la musica Che più di altre Parla un linguaggio Di libertà Questa è la matrice culturale Di questa musica popolare Che vive il suo boom Nei ruggenti anni venti Ed è arrivata Fino ai giorni nostri Con immutata potenza Attualizzata Scorporata Contaminata in tanti rivoli Ma senza perdere mai La sua anima Il suo spirito Fano respira il jazz Da 24 anni E qui sono passati I più grandi A livello mondiale Anche l'edizione 2016 Presentata stamane Nella Sala della Concordia In Comune Ha un programma Di grande impatto Con presenze Di spezzore musicale Elevatissimo Costruito In un anno Di febbrile lavoro Con diversi eventi collaterali Mostre e kermesse Nella kermesse Come Exodus Adesso abbiamo la possibilità Grazie ai contributi ministeriali Di poter pianificare Questo ci consente Di lavorare Durante tutto l'anno Ed ecco che quest'anno Abbiamo prodotto Un festival Così Diciamo abbastanza Con una massa critica Notevole Sono tutti musicisti Di livello mondiale Ne cito alcuni Tipo Josh Coffield Brad Meldau Gonzalo Rubalcaba Uno dei più grandi pianisti cubani Un gruppo che noi abbiamo cercato Di presentare Come novità Un trio Anglo-danese Che si chiamano I Fronesis Lars Danielson Un altro violoncellista Contropassista L'arrangiatore svedese Yellow Jackets Che sono uno dei gruppi Della fusion Più importanti al mondo Roberto Gatto Con un progetto Diciamo Italo-New Yorkese Poi per questa band Fantastica Del No Brass Band Che chiuderà il festival A Golina del Furlo Quindi Exodus è una bellissima novità Che Durante Durante questo lavoro Per costruire il festival Parlando E ascoltando Un po' Quelle che sono le vicende Mi è venuto in mente Di dare un piccolo contributo A questo dramma Della Migrazione E ricordiamoci Che il jazz È il frutto Della migrazione Migrazione forzata Ma è frutto Della migrazione Quindi è dell'incontro Fra i popoli Dal 22 al 31 luglio Quindi Fano Sarà la capitale Italiana ed europea Del jazz Viste le prenotazioni Che stanno arrivando Da Austria E dalla Germania In dieci giorni Ci saranno 24 concerti Eseguiti da 80 musicisti Provenienti Da ogni parte del mondo Dislocati In 8 location diverse Tutte da vivere Tra arte e musica Le attività collaterali Oltre a questo grandissimo numero di artisti 80 artisti Che vengono a tutto il mondo A Fano Le attività collaterali Che coinvolgono anche altri linguaggi Del contemporaneo Quindi come è avvenuto l'anno scorso Con una bellissima mostra fotografica Esposta al museo archeologico Quindi che metteva in contatto L'antichità archeologica Con la modernità Quest'anno ci sono altre tre mostre contemporanee Di cui due a Fano Che secondo me Saranno molto suggestive Perché coniugheranno L'immagine visiva Con il suono Con la musica E con eventi Uno di questi È la strage di Ustica Su cui ha lavorato Uno di questi artisti E il vice ministro Delle infrastrutture E dei trasporti Riccardo Nencini Sarà alla Mimo di Fano Venerdì alle ore 19 Per rappresentare Il suo libro Intitolato Il fuoco dentro Oriana a Firenze Nencini racconta La storia di Oriana Fallaci Nel decimo anniversario Della morte Della scrittrice E giornalista Adesso passiamo allo sport Perché Massimiliano Menegatti È il nuovo direttore sportivo Dell'Alma Juventus Fano L'ha annunciato Il presidente Claudio Gabbellini Durante una conferenza stampa Ed ha anche svelato I progetti della società L'Alma Juventus Fano Pianta la prima bandierina In vista della Lega Pro E presenta Il nuovo direttore sportivo È Massimiliano Menegatti Ex di Giacomense Alessandria e Forlì Uomo di esperienza Che conosce bene La piazza di Fano Avendola frequentata Da giocatore In vesti di avversario Dei Granata Perdendo sempre Tra l'altro Vincente Dovrà essere invece Il suo vissuto Da direttore sportivo In una città Come lui stesso dice Affamata di calcio Ben consapevole Del delicato compito Che l'aspetta In questa fase Così particolare Del Fano È stato un fulmine Celserino E non ho esitato A dir sì Tutti quelli Con cui ho parlato Hanno detto Che madonna Che bella piazza Che vai Ed è vero Ci ho giocato contro Ho visto Sono venuto a vedere Delle partite L'entusiasmo Era alle stelle Anche l'anno scorso Adesso però Concentriamoci Sulle cose importanti Che sono quelle Di iniziare A cercare L'allenatore Parlo dal punto di vista Tecnico E sportivo E costruire la squadra Piano piano E il nostro Obiettivo È Pensare Alla prima giornata Di campionato Di essere Pronti Per affrontare Questa Lega Pro Che ogni anno È sempre più difficile La nostra squadra Penso che alla fine Sarà Un mix Tra giovani Vecchi È una brutta parola Tra under E over Cercheremo Dei giovani In giro Per l'Italia Da società Che abbiamo Buoni rapporti E poi dopo Metteremo dentro Pensiamo Dei vecchi giusti Che creano il gruppo Lui è l'uomo giusto Nel posto giusto Dice Patron Gabellini Perché Incarna Tutte le caratteristiche Che noi riteniamo Fondamentali Per una figura Di questo tipo E che opererà In piena autonomia Sin da oggi In accordo Con i principi Che la proprietà Gli fornirà Siamo consapevoli Che partiamo Zavorrati E con un budget Limitato Ma all'altezza Delle nostre aspettative Sottolinea Patron Gabellini Il nostro obiettivo Un campionato Dignitoso E una salvezza Tranquilla Questo incontro Con Massimiliano Menegatti Persona di sport Da tanti anni È stato giocatore E tecnico È conosciuto È riconosciuto Per cui Questa simpatia Questa Diciamo Questa comunanza Anche di vedute Su diverse situazioni Ci ha Come dire Convinto A prendere questa strada Dovrà essere Un uomo aziendale Ha le idee chiare Anche sul prossimo mister Il neodirettore sportivo A lui Affiderà le sorti In campo dei Granata E metterà mano Alla rosa dei giocatori Oltre al nome Già trapelato Di Giovanni Casatis Sono in atto Altre consultazioni Almeno tre quattro Sono i papabili Per il nome definitivo Però Dovremo aspettare Almeno un'altra settimana E adesso ci spostiamo A Pesaro Perché in occasione Dei quarti di finale Della Coppa Davis Italia Argentina Che si svolgeranno Al tennis club Baratrof Dal 15 al 17 luglio È stata organizzata La Davis Week Si tratta di una settimana Di iniziative a Riccione Pesaro e Fano Dedicate alla musica Allo sport Al cibo E al divertimento Inoltre Per ognuna delle tre giornate Della Davis Verranno messi a disposizione 500 biglietti A 10 euro l'uno Per chi si presenta In biglietteria Con un tesserino Di affiliazione A una società sportiva O di iscrizione A un corso sportivo L'intero programma E maggiori informazioni Li troverete Nel nostro sito Occhio alla notizia Punto it E con lo sport Chiudiamo qui Il nostro telegiornale L'informazione Come sempre Torna domani mattina Con la rassegna stampa Alle 7 e 30 E poi Con una nuova edizione Della Tg Occhio alla notizia Alle 20 e 30 Grazie per la vostra attenzione Arrivederci a domani A A A B A B A A B A B Grazie a tutti.